sapete che è che è? che è la soleghiera questo si mette con un cavallo con un po' ciuccio e una volta si camminava così e se lo cammino faccio le macchine cavallo se lo fai questa saio vai stacca tutta tutta e a sole 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 un contatto sa ora para prima sei vese che vese che vese ascia bene la tromba Grazie a tutti! Anagostate di Yerba, Capagana Pedobillo decate, chiamalo 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.